Sul finire di quell'estate abitavamo in un villaggio dove, di là dal fiume e dalla pianura, si vedevano i monti. Nel letto del fiume, ciottoli e ghiaia erano asciutti e bianchi nel sole e l'acqua correva limpida e azzurra nei canali. Passavano truppe accanto alla casa e proseguivano lungo la strada. La loro polvere copriva le foglie degli alberi. Anche i tronchi erano ricoperti di polvere e le foglie caddero presto quell'anno. Vedevamo truppe marciare lungo la strada sollevando nuvole di polvere e cadere foglie agitate dal vento mentre passavano i soldati e poi la strada nuda e bianca dove non c'erano foglie. La pianura era ancora ricca di messi, aveva molti frutteti e in fondo salivano le montagne brune e aride. Si combatteva lassù, di notte scorgevamo le vampe dei cannoni. Parevano lampi di caldo nel buio ma erano fresche le notti, non si aveva il senso dell'avvicinarsi di un temporale. A volte di notte sentivamo ammazzare sotto la finestra e passare cannoni trascinati da trattori. Era sempre traffico di notte, muri lungo le strade con casse di munizioni in equilibrio ai due lati del basto e grigi camion che portavano soldati e altri camion carichi di materiale coperti da tendoni più lentamente incamminati nel traffico. E grossi cannoni passavano di giorno rimorchiati dai trattori, le lunghe canne intrezzate di rami verdi mentre tralci di vite coprivano i trattori. Verso nord una foresta di castagna appariva in fondo a una valle e poi saliva un'altra montagna di qua del fiume. Si combatté a lungo anche per essa ma senza successo. In autunno quando incominciarono le piogge le foglie caddero dai castagni e i rami rimasero spogli, neri i tronchi dei castagni dentro la pioggia. Si spogliarono le viti e tutto il paese fu brullo umido e morto nell'autunno. Banchi di nebbia stavano sul fiume, le nuvole sulle montagne e i camion schizzavano fango sulle strade. Passavano fangose e bagnate le truppe dentro i mantelli, umidi i fucili di pioggia e di sotto i mantelli puntavano sul davanti le giberne di cuoio. Grigie giberne piene di pacchetti di caricatori con le loro cartucce lunghe e sottili da sei millimetri e mezzo. Sporgevano rigonfie e gli uomini marciavano come se fossero gravidi di sei mesi. Piccoli automobili grigie passavano in fretta, un ufficiale di solito seduto accanto al guidatore e altri dietro. Schizzavano ancora peggio dei camion e se uno degli ufficiali nel fondo era piccolissimo seduto tra due generali, tanto piccolo da non poterne neppure vedere il viso ma solo la punta del berretto e se la macchina correva ancora più in fretta probabilmente era il re. Abitava a Udine e quasi ogni giorno voleva vedere come andavano le cose e andavano in verità molto male. All'inizio dell'inverno non smise di piovere, venne il colera ma riuscirono a domarlo e non più che settemila uomini infine ne morirono in tutto l'esercito. L'anno dopo ci furono molte vittorie. La montagna al di là della valle e i pendii con la foresta di castagni vennero presi e si vinse anche al di là della pianura sull'altopiano verso sud. E nell'agosto attraversato il fiume ci stabilimmo a Gorizia in una casa con una fontana e un giardino ricco d'alberi grossi e ombrosi recinto da un muro e banchi di glicine color porpora sul fianco della casa. Ora non più che un miglio si combatteva sulle montagne. Gorizia era una cara città e molto bella la casa dove abitavamo. Dietro scorreva il fiume. Gorizia era quasi intatta dopo la conquista ma le montagne di fronte non si riusciva a prenderle e a me faceva piacere che gli austriaci pensando forse di tornare non bombardassero la città per distruggerla ma solo quel poco che esigeva la guerra. La popolazione era rimasta e c'erano ospedali, caffè, artiglieria nelle strade e due casini, uno per i soldati l'altro per gli ufficiali. E verso la fine dell'estate le notti fresche e i combattimenti sulle montagne dall'altra parte della città, il ferro del ponte della ferrovia segnato dalle granate e la galleria rovinata vicino al fiume dove si era combattuto, gli alberi intorno alla piazza e il lungoviale alberato che portava ad essa e le ragazze nelle vie e i passaggi del re nella sua automobile. Ora a volte se ne vedeva il viso e il piccolo corpo, il collo lungo con la barbetta grigia simile al pizzo di una capra. Tutto questo e l'improvviso spettacolo delle case che dopo un colpo d'artiglieria mostravano gli intestini, con i calcinacci e i detriti nei giardini e per le strade e la situazione buona sul carso appartenevano a un autunno molto diverso da quando si abitava al villaggio. Anche la guerra era cambiata. Era scomparsa sulla montagna di fronte la foresta di Querce. Avevamo trovata verde nell'estate entrando in città, ma rimanevano solo ceppi e tronchi spezzati e un terreno sconvolto. E un giorno, sul finire dell'autunno, passando dove era la foresta, vidi una grande nuvola avanzarsi sulla montagna. Avanzava veloce e il sole divenne cupo e poi tutto si fece grigio. Il cielo restò chiuso da quella nuvola. Essa avanzò ancora, calando sulla montagna, ed improvviso ci trovammo in essa e fu la neve. Scendeva di traverso, nel vento, e il terreno ne fu coperto. Solo i tronchi spezzati sporgevano. Neve si accumulò sui cannoni. Tracce nella neve portavano ora i gabinetti, dietro le trincee. Più tardi in città, vidi cadere la neve oltre i vetri del casino per gli ufficiali, dove mi trovavo con un amico davanti a una bottiglia d'asti. E guardando come scendeva lenta e pesante, capii che tutto era finito per quell'anno. Le montagne oltre il fiume non erano state prese. Nessuna montagna al di là del fiume era stata presa. Tutto questo restava per l'anno dopo. E il mio compagno scorse il cappellano che veniva con noi a mensa passare giù nella strada, camminando cauto nella fanghiglia. Batte sul vetro per chiamarlo. Il cappellano guardò in su e sorrise. Il mio compagno gli fece cenno di salire. Ma lui scosse la testa e proseguì. A mensa quella sera, dopo gli spaghetti che mangiavamo in fretta e silenziosamente, attorcigliandoli sulla forchetta finché non si raccoglievano mollemente e potevamo così tuffarli in bocca o anche li lasciavamo penzolare aspirandoli con delicatezza. Versandoci intanto del vino, dal grosso fiasco sospeso nel suo porta fiaschi di metallo, con l'indice si abbassava il collo e il vino, un rosso limpido, scuro e amabile, colava nel bicchiere tenuto dalla stessa mano. Dopo gli spaghetti dunque, il capitano incominciò a canzonare il cappellano. Il cappellano era giovane e arrossiva facilmente. Portava un uniforme simile alla nostra, con una croce di velluto rosso sul taschino del grigio verde. Per un delicato riguardo a me, il capitano parlava un italiano da negro. Voleva che io non perdesse una parola senza mio gran vantaggio. «Cappellano, oggi con ragazze», disse guardando insieme il cappellano e me. Il cappellano rise e arrossì mentre scoteva la testa. Il capitano lo pungeva spesso. «Forse non vero», domandò il capitano. «Oggi io ho veduto cappellano con ragazze». «No», disse il cappellano. Gli altri ufficiali si divertivano. «No, cappellano con ragazze», riprese il capitano. «Cappellano mai con ragazze», spiegò. Prese il mio bicchiere e lo riempì. Mi guardava senza perder di vista il cappellano. «Cappellano ogni notte cinque contro una», fece un gesto appropriato e riceve un fracasso. Il cappellano accettò lo scherzo. «Per far contento il papa, gli austriaci dovrebbero vincere la guerra», disse il maggiore. «Ha una passione per Francesco Giuseppe. È da lui che gli vengono i quattrini, ma per fortuna io sono ateo». «Hai mai letto il maiale nero?» domandò il tenente. «Te lo farò leggere. È il libro che ha scosso la mia fede». «Un libro indecente e abietto», disse il cappellano. «Non credo possa piacerle». «Ma che? È un libro di valore», replicò il tenente. «Spiega che cosa sono questi preti». «Ti piacerà», mi disse. Sorrisi al cappellano e mi ricambiò il sorriso attraverso la candela. «Non lo legga», mi disse. «Te lo farò avere», insisteva il tenente. «Tutti quelli che ragionano sono atei». disse il maggiore. «Però io non ho fiducia nei massoni». «Ma io sì», disse il tenente. «Hanno scopi nobilissimi, i massoni». Entrò qualcuno e dalla porta vedi cadere la neve. «Non faranno più offensive ora che c'è la neve», dissi. «Certamente no», rispose il maggiore. «Lai dovrebbe andarsene in licenza. Dovrebbe andarsene a Roma e poi Napoli, Sicilia. Non dimenticare Amalfi», esclamò il tenente. «Ti darò un biglietto per la mia famiglia e ti tratterà come un figlio. È a Palermo che deve andare. Ma non sapete che c'è capri?» «Avrei piacere che vedessi gli abruzzi e l'ospitazione mei a Capracotta», disse il capellano. «Sentitelo coi suoi abruzzi. Laggiù nevica ancora peggio di qui. Non ha bisogno di vedere dei contadini. Deve conoscere i luoghi della cultura e della civiltà. E troveresti magnifiche ragazze. Ti darò io l'indirizzo di certi posti a Napoli. Belle ragazze, giovani, accompagnate dalle mamme». Il capitano guardò il cappellano e gridò «Ogni notte cappellano cinque contro una». Di nuovo risero tutti. «Davvero, deve andarsene in licenza», disse il maggiore. «Potessi venire con te e farti da guida», disse il tenente. «Quando ritorni, porta il fonografo, con buoni dischi d'opera. Ricordati Caruso. Ma che Caruso ha una voce da bue. Riusciste voi a muggire come lui?» «È un bue, insisto, un bue!» «Sarei felice che andasse negli abruzzi», disse il cappellano, mentre gli altri continuavano a gridare. «C'è un'ottima caccia. Mi piacerà la gente, e il clima, benché freddo, è sereno e asciutto. Potrebbe stare dalla mia famiglia. Mio padre è un gran cacciatore». «Muoviamoci», disse il capitano. «Forza, al casino! Su, prima che chiuda!» «Buonanotte», disse il cappellano. «Buonanotte», rispose. Quando ritornai al fronte ritrovai Gorizia. C'erano molti più cannoni nella campagna ed era venuta la primavera. I campi erano verdi e le prime gemme spuntavano sulle viti. Gli alberi lungo la strada avevano messo un dito di foglie, e un po' di vento veniva dal mare. Vide avvicinarsi la città, con la sua collina e il vecchio castello in alto, gli altri colli che le facevano corona, e le montagne dietro, brune, con un po' di verde sui pendii. Anche in città erano più numerosi i cannoni e c'era qualche nuovo ospedale. Incontrai degli inglesi e anche delle inglesi, e altre case erano state colpite dall'artiglieria. Faceva caldo in modo primaverile. Lungo il viale alberato i muri erano tiepidi di sole. Trovai che abitavamo ancora la stessa casa, e tutto era come prima, identico a quando ero partito. La porta era aperta e un soldato sedeva su una panca nel sole, e all'ingresso laterale stava ferma un'ambulanza. Entrando ritrovai l'odore del pavimento di marmo e l'odore d'ospedale. Tutto era come l'avevo lasciato, se non che adesso c'era la primavera. Guardai per la porta dello stanzone. Vidi il maggiore seduto al tavolo e la finestra aperta, col sole che entrava nella stanza. Il maggiore non si era accorto di me e non sapevo se presentarmi subito o andar su a lavarmi. Poi decisi di salire. La stanza che dividevo col tenente Rinaldi stava sul cortile. La finestra era aperta e la mia branda pareva fatta, ma c'erano solo le coperte, e la roba mia era appesa al muro, la maschera antigas nella sua scatola di latta oblunga, l'elmetto. Sul baule stavano i miei stivali d'inverno, brillanti di lucido. La carabina da cecchino, con la canna azzurrata e il calcio di un caro legno di noce scuro, ben aggiustato alla guancia, era appesa per lungo sopra le due brande. Ricordai che il cannocchiale l'avevo messo nel baule. Rinaldi dormiva disteso sulla sua branda, e sentendomi si svegliò, si alzò a sedere. Ciao, disse, com'è andata? Benone. Batte le mani, mi mise un braccio intorno al collo e mi baciò. Ah, feci, sei sporco, disse, faresti bene a lavarti. Dove sei stato? Che cosa hai fatto? Racconta, subito! Dappertutto sono stato. A Milano, a Firenze, Roma, Napoli, Villa San Giovanni, Messina, Taormina. Sembri l'orario delle ferrovie. E le avventure sono andate bene? Sì. Dimmi dove. Milano, Firenze, Roma, Napoli. Fermà, di la migliore. Milano. Già, perché era la prima. Dove hai trovato da far meglio? Al Cova? E hai goduto abbastanza? Dimmi tutto. Hai restato tutta la notte? Sì. Questo però è niente. Ne abbiamo qui adesso, le belle ragazze. Carne fresca, ma è stata al fronte. Incredibile. Crederai quando andremo a vedere. Prima di sera. E in città ci sono delle bellissime inglesi. Faccio all'amore con Miss Barkley. Te la farò conoscere. Finirò forse con lo sposarla. Devo lavarmi e andar giù a farmi vedere. Non c'è lavoro adesso qui? Da quando sei andato via c'è stato solo un po' di congelamenti, pedignoni, terizia, scolo, ferite volontarie, polmoniti, carcinomi e fibromi, una volta alla settimana dei feriti da scheggia di pietra. Pochi feriti veri, ma la settimana prossima ricomincia la guerra. Pare che ricominci. Così, dicono qui. Dici che faccio bene a sposare Miss Barkley? Dopo la guerra, si capisce? Certo, fai benissimo, dissi, e riempi la catinella. Stasera mi racconterà il resto, disse Rinaldi. Mi rimetto a dormire. Voglio essere fresco e bello con Miss Barkley. Mi tolsi giubba e camicia e mi lavai con l'acqua fredda della catinella. Estrofinandomi con l'asciugamano guardavo per la stanza e fuori dalla finestra e Rinaldi sdraiato con gli occhi chiusi. Era un bel uomo, super giù della mia età. Era di Amalfi e gli piaceva fare il chirurgo. Era molta amicizia tra noi due. Mentre lo guardavo aprì gli occhi. Hai soldi? Sì. Prestami cinquanta lire. Mi asciugai le mani e prese il portafoglio dalla tasca della giubba. Rinaldi piegò il biglietto e rimanendo sdraiato lo fece scivolare nella tasca dei pantaloni. Sorrise. A Miss Barkley devo far credere d'essere a posto. Sei sempre il mio grande, il mio buon amico e il protettore delle mie tasche. Ma all'inferno, dissi. Quella sera a mensa mi sedetti accanto al capellano e rimase un po' offeso perché non ero stato negli abruzzi. Avevo annunciato la mia visita ai genitori e avevano fatto dei preparativi. Dispiaceva anche a me. Non riuscivo a capire perché non ero stato negli abruzzi. Ne avevo avuto davvero voglia. Ma cercai di spiegare che da una cosa ne era venuta un'altra e alla fine fu persuaso. Capì che avrei voluto andarci. La questione fu sistemata. O quasi. Avevo bevuto molto vino e poi caffè e poi strega. E cercavo di spiegare, preso ormai dal vino, come non si riesce a fare ciò che si vuole. Come non ci si è mai riusciti. Continuavo a parlare col capellano mentre gli altri discutevano. Avevo desiderato davvero vedere gli abruzzi. E non ero stato invece laggiù dove le strade sono gelate e dure come il ferro e il freddo è limpido e secco, la neve è asciutta come polvere e tracce di lepre solcano la neve e i contadini, levandosi il cappello, vi chiamano signoria e la caccia è eccellente. Non ero passato per nessuno di quei paesi, ma solo per il fumo dei caffè e dentro notti che la stanza vi gira intorno e dovete guardare il muro perché si fermi, notti sperdute ancora nell'ubriachezza, a letto, quando sentite che non c'è altro se non ciò che vedete e l'eccitazione strana nello svegliarsi senza sapere con chi si è e il mondo resta irreale nel buio e siete eccitati tanto da dovervi rifare oscuri, dispersi ancora nella notte, solo convinti che questo è tutto, tutto, veramente tutto e che non importa poi tanto. Ma d'improvviso vi importa ancora moltissimo e poi dormite e potete svegliarvi al mattino con lo stesso pensiero, mentre ciò che era stato e svanì e che ritorna così acuto, aspro oppure chiaro e a volte ripensate quant'era caro il conto, a volte allegri ancora, sprofondati nella contentezza e caldi di essa fino a colazione e a pranzo, altre volte esclusi e straniati da ogni allegria e soddisfatti solo di poter uscire all'aperto, fuori, per le strade. Ma è un'altra giornata che comincia e poi una notte ancora. Cercavo di parlare della notte al capellano e della differenza tra la notte e il giorno e di come la notte sia migliore se non quando il giorno è particolarmente fresco e limpido, ma non riuscivo ad esprimermi. Così non mi riesce adesso, ma chi l'ha provato lo sa, il cappellano non l'aveva provato, ma capì che avevo avuto voglia davvero di vedere gli abruzzi. E non ci ero andato tuttavia e noi due si erano amici come prima, con molti gusti in comune ma non proprio uguali tra noi. Aveva saputo sempre lui quello che non sapevo e anche dopo che l'imparai restai pronto a dimenticarlo. E ancora non lo sapevo allora, dovevo impararlo più tardi. Intanto si restava tutti a tavola. Era finita la cena ma continuava la discussione. Avevo smesso di parlare col cappellano. Il capitano disse a gran voce, cappellano malcontento, cappellano non contento senza ragazze. Sì che sono contento, disse il cappellano. Cappellano malcontento, cappellano volere austriaci vincere guerra, continuò il capitano. Gli altri stavano a sentire. Il cappellano scosse la testa. Non è vero, disse, cappellano volere noi niente attacco. Non è vero forse che lei desidera che non si vada all'attacco? No, non è così. Se c'è la guerra penso che bisogna attaccare. Bisogna andare all'attacco e ci andremo. Il cappellano accennò di sì. Andiamo via, lasciamolo solo, disse il maggiore. Non si è comportato bene. In ogni modo non può farci nulla, disse il capitano. C'è il zanno, e lasciamolo la tavola.